meeting point siamo qui 24 la vigilia di natale andiamo a vedere questa atmosfera natalizia presidente finodino burri che fa gli auguri di natale a tutti quanti la sua simpatia per arrivare ci dicono buon natale buon natale buon natale buon natale cosa dire tanti auguri tanti auguri buon anno abbiamo tempo ancora per l'anno nuovo qui al meeting point e rompiamo la partita per fare gli auguri 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 anche auguri già visto qui il bartoloni qua si gioca si continua auguri dal meeting point vogliamo chiudere questo servizio con tanti auguri dal meeting point tanti auguri dal meeting point risponde al telefono